Che fine hanno fatto gli aiuti economici in favore degli agriturismi? Se lo chiede il parlamentare pavese di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che nei giorni scorsi ha presentato un emendamento per incalzare l'esecutivo sull'argomento, nel famoso decreto di agosto, che riguarda le misure su turismo e cultura, infatti, il premier Conte si sarebbe dimenticato di diverse categorie, ha affermato Cattaneo. E lo stesso Cattaneo chiede che tutti i parlamentari del territorio pavese si facciano portavoce di questo problema. A Proda in settimana il decreto, che è quello che è stato discusso il Senato in agosto, che distribuisce delle risorse per l'emergenza che abbiamo vissuto. Al centro sono i fondi che il governo vorrebbe distribuire a chi ha sofferto per il turismo, però guardando nelle pieghe si sono dimenticati di molti, tra i tanti ci sono gli agriturismi. Nel senso che hanno trovato delle risorse per gli hotel, le pensioni, i bed and breakfast, ma tutto il comparto che va sotto la parola agriturismo è stato completamente abbandonato. Questo è un atto gravissimo, perché gli agriturismi sono a tutti gli effetti dei recettori di turismo molto rilevanti in Italia e lo è per il nostro territorio, perché inoltre po' tantissimi negli ultimi anni hanno aperto e quindi mi è sembrato doveroso presentare un emendamento. Vedremo che fine farà questo emendamento, io lo sosterrò. Chiedo anche aiuto ai colleghi di questo territorio della maggioranza per trovare insieme delle sinergie, per stare fianco a fianco di chi nel nostro territorio, nell'oltre po' ha deciso negli ultimi anni di investire, ha aperto un'attività ricettiva di cui tanto c'è bisogno e ora si vede abbandonato dal governo. Qua non importano le casacche politiche, chiedo veramente a tutti i deputati, soprattutto di maggioranza, di accogliere e aiutarmi a sostenere questo emendamento che tanto farebbe bene agriturismi dell'oltre po'. Grazie. Grazie.